Il segreto del passato di Riccardo Uomini e donne, il segreto del passato di Riccardo Ieri il presunto segreto del passato di Riccardo ha monopolizzato la puntata di Uomini e donne Sosso ha ammesso di essere stato lui a rivelare il famoso segreto a Ida ed ha aggiunto A me hanno riferito la cosa, non è partita da me, io a Taranto ho giocato per anni e ho molti amici Quando mi hanno riferito questa cosa molto grave, molto grave, ammettete che è molto grave, ma non perché, ognuno nella vita può fare quello che vuole Io per quello che mi hanno raccontato, mi sono preoccupato per lei e mi sono detto le devo far sapere Maria De Filippi è intervenuta Nella segnalazione di grave non c'è nulla, ma sarebbe incompatibile con la relazione con Ida Anche Gianni ha detto la sua Va bene il 2018, che sarà mai Va bene il 2018, che sarà mai riferito a me Cvain Mary ha sottolineato che il presunto segreto è delicato e per questo non l'ha rivelato in puntata Riccardo ha smentito tutto e Ida non ha creduto alla segnalazione Twitter però mormora e Maria dice che la relazione sarebbe incompatibile, Gianni ha detto che nel 2018 ormai è Gai La segnalazione sarebbe che Riccardo è gay Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti